Il ritorno a scuola si avvicina sempre di più. La riunione di ieri alla presenza della prefetta di Pescara Giancarlo Di Vincenzo è stata aggiornata al prossimo 31 agosto. Al baglio i numeri dei mezzi e della popolazione studentesca, ma sono ancora tante le incognite, parecchie le cose da decidere. Il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri. Da decidere, andiamo a dritti al cuore del problema, tra l'orario di entrata unico scaglionato. Ci sono tante cose da decidere e portare e vedere bene e valutare bene, perché la riunione che è stata fatta ieri in prefettura, ovviamente organizzata dalla sua eccellenza il prefetto che è sempre attento a queste problematiche, proprio per capire e vedere bene adesso le linee guida dettate dal governo. Secondo lei qual è la priorità? La priorità è a 360 gradi, perché non c'è una cosa prioritaria rispetto a un'altra, è una cosa tutta collegata, sinergica, che dobbiamo creare una sinergia con il trasporto, i dirigenti scolastici, il mondo scuola e anche i comuni e le forze dell'ordine per cercare di trovare la quadra su tutto, perché poi ognuno ha una propria competenza e ognuno deve fare il suo. Per esempio, l'ingresso probabilmente si opterà per quello scaglionato? Non lo sappiamo, perché noi faremo tutte le ipotesi possibili e immaginabili, perché poi dovremmo trovare la soluzione quella meno impattante e meno disagevole per l'utenza scolastica. Se ci sono più corse, non è che dobbiamo prendere sempre la stessa corsa, se su una linea ci sono tre pullman che passano consecutivamente ogni cinque minuti, non è che dobbiamo prendere tutti il primo pullman. Poi c'è anche il nodo dei controlli sugli autobus. Sì, ecco perché le forze dell'ordine sono coinvolte proprio per il controllo nei vari punti di raccolta e le fermate dell'autobus. Però adesso vogliamo capire, riportare, diciamo fare delle varie ipotesi in base alle linee guida del governo. Ricordando, Presidente, concludiamo che la capienza dei mezzi è all'80%. Sì, oggi la capienza dei mezzi è all'80%, però è anche vero che Tua e Regione, con Regione Abruzzo, ovviamente l'anno scorso ha fatto uno sforzo in mane di ampliare la flotta. Quindi è vero sì che si va all'80% ma quella flotta può sopperire, perché l'anno scorso si viaggiava al 50% ed era funzionale.